Il comune di San Valentino Torio punta sull'amore e quella del 5 febbraio, la data fissata per la presentazione a Casa Sanremo Writers, concorso letterario che si tiene a Casa Sanremo nel corso del 74esimo festival della canzone italiana del volume Se mi ami, scrivimi. Il testo, curato da Lucio Belmonte, è frutto di una collaborazione tra il comune di San Valentino Torio e Romantica Radio. Per tutto il mese di dicembre, gli ascoltatori di Romantica Radio da tutta Italia hanno inviato migliaia di messaggi d'amore e tra questi gli ascoltatori stessi hanno selezionato quelli ritenuti più romantici, inseriti poi all'interno del volume. Inoltre, i due messaggi più votati sono stati premiati con un pass per Casa Sanremo. Il 5 febbraio, nella città dei Fiori, ci saranno il primo cittadino di San Valentino Torio, Michele Strianese, e il curatore del testo Lucio Belmonte. Il sindaco Michele Strianese, l'assessore alla cultura Raffaella Zottolo e gli altri componenti della giunta puntano a portare alla ribalta il brand Città degli Innamorati. E San Valentino si preparia alla festa. Hanno già preso il via tutte le iniziative religiose, civili, culturali, sociali e di valorizzazione che vedranno il clu nella settimana della festa patronale, quella che è messa San Valentino in Love. Appuntamento dal 15 al 19 di febbraio. Grazie a tutti.